Fammi la residence, vediamo come andrà sto game No lo so, vediamo, vediamo Sto spiando, va bene, va bene Fammi sapere No ragazzi, non iniziamo Guarda, mi metto a mettere trappole ogni volta che vedo un 360 adesso, giuro Ma no, ma come siete già qui raga? Finchia quanto è difficile Mamma mia Ok, finito il Vorrei sapere come si vede dalla loro visuale, onestamente Vabbè Nice Sarei proprio curioso di vedere dalla loro visuale come si vede Ok Fini Iniziamo a trappare, però tanto si parleranno quindi lo sapranno ma Comunque è sempre conveniente mettere le trappoline Un po' più lontano in modo tale che magari anche mentre si avvicinano non le vedono Comunque è buono trappare un po' ovunque dove pensi che possono passare con l'ag L'altro non ho ancora capito quali le mappe forse perché non avevo guardato oltre lì Ciao Minou Non venire anche tu però No, lui l'ossessione cazzo non la posso cesare Lei sì però Signorinada, la prego venga qui Signorinada Nice Nice No, no Vi prego, non ora Non odiatemi Perché è così veloce Ok Uff Smoloti da musti snake Vabbè non l'ho fatta apposto Che che ha triggerata la trappola Nice Povero musti Killer più sottovalutato Non saprei dirti No Guarda che maledetti No i comandi Che grab Mi fate guardare le stack di save the best Vi odio Non saprei dirti sottovalutato Il twin ti direi Cioè a me piacciono i twin da giocare Quindi tutti dicono che è deboli Però secondo me sono forti Sono tanto difficili da usare Poi dipende sempre dagli degustibus Minou per favore Questo Freddy Tanto male Ma sa fare del danno No Secondo me Freddy Freddy non è sottovalutato Anzi Minou scusami Niente C'ho anche il gatto Che mi sta dando fastidio Adesso ragazzi Ma come? Cioè non C'ho il gatto C'ho voi C'ho C'ho loro Aiuto Mi sta anche facendo malissimo Il gatto Perché mi sta unghiendo la pelle Au No ai comandi Volevo andare a destra E sono andato a sinistra Se volevo andare a sinistra E sono andato a destra No è finito ora Ok Ok no raga dai fatemi arrivare al look vi prego bravo gatto continua la challenge gatto addon se ti hanno la maglietta fortissimo camina cosa mi ti peggy moon non sono convinto che dovresti farlo direi di no guarda ti grabbo ti grabbo ti grabbo stai ferma che ti grabbo il gatto è uno di noi c'è un minu guardatevi vi metto un attimo la cat cam intanto non ho la cat cam su dbd peccato niente cat cam massacrati abbiamo fatto qualcosa di male c'erano sabbi in premio ehi ragazzi io ho giocato tranquillo mi hanno pure messo pochi troll dai mi hanno messo pochi troll malvagio vabbè ma io dovevo appendervi ragazzi cioè è il mio lavoro uccidervi il vostro resto è scappare vero minu è vero minu che brutto gatto guarda c'ho anche un gattaccio il gatto non mi vuole male vero non mi vuole male minu tampino non ci arriva neanche è nano quel coso è nanetto ma tu avevi arda avevi no non avevi un breakable guarda ti han curato guarda che avevate tutti i mariti viola maledetti invece a fare i gen senza averne fatto nemmeno uno con scopio per enda il primo senza senso e con una stancazza addosso plurima contando che poi questo kill si trasporta avendo il perk della bilancia direi che ho più a dir poco dovete stare attenti a non proccare le trappole ragazzi solo quello vi siete fatti prendere dalle trappole e sono riuscito ad abusarne nel fatto che davvero le trappole mi hanno fatto vincere quello andate su ogni trappola che avevo piazzato questo Grazie a tutti.